nikon mobile air siamo di fronte alla prima applicazione per telefonino per collegare il telefonino alla macchina fotografica pensata per i professionisti infatti qua non abbiamo più un collegamento via bluetooth come succedeva prima nelle altre applicazioni sia di nikon che di tutti gli altri brand ma abbiamo un collegamento via cavo il collegamento via cavo è più adatto ai professionisti perché permette una maggiore velocità di trasferimento e una maggiore affidabilità questo rappresenta sotto molti punti di vista una rivoluzione perché il segnale che anche in ambito professionale c'è bisogno di questa integrazione tra smartphone e fotocamere io questa cosa qua l'avevo già detta non per vantarmi non per fare il figo ma l'avevo già detta qualche mese fa quando fece un articolo sul blog rivolto a tutti i brand costruttori di macchine fotografiche in cui li invitavo a prendere in considerazione l'idea di integrare maggiormente le funzionalità degli smartphone con quelli delle fotocamere so benissimo che questa mia opinione questa nuova tendenza fa storcere il naso a molti professionisti che invece vedono nella differenziazione tra smartphone e fotocamere proprio un punto di forza io invece credo che questa integrazione sia inevitabile e necessaria addirittura se fino ad oggi se fino a questa nikon mobile air abbiamo un'integrazione che è relativa che necessita dell'accoppiamento fisico tra smartphone e fotocamere io sono convinto che in futuro questo accoppiamento non sarà più necessario perché le fotocamere avranno già al proprio interno tutte le connessioni necessarie per poter trasferire le immagini a server ftp o a servizi cloud ecco nello specifico questa nikon mobile air è la prima applicazione di nikon che prevede anche un piano a pagamento mensile questo piano a pagamento mensile è disponibile per i professionisti che hanno la necessità di caricare nel cloud fornito da nikon parecchie immagini fino ad un certo punto il servizio è free come potete ben immaginare dopo un certo limite diventa a pagamento e questo dà la possibilità a tutti i fotogiornalisti che hanno necessità di mandare immediatamente le proprie immagini all'editore al giornale o allo studio di post produzione appunto dà la possibilità di farlo immediatamente e senza nessuna intermediazione in futuro secondo me si arriverà direttamente ad avere delle fotocamere connesse alla rete con il proprio piano dati interno ma quali altre novità potrà portare questa integrazione tra smartphone e fotocamere secondo me dobbiamo stare attenti soprattutto all'intelligenza artificiale come l'intelligenza artificiale può aiutare noi professionisti anche gli amatori nel proprio lavoro nella propria attività innanzitutto le fotocamere potrebbero essere in grado di fare una prima selezione delle fotografie magari scartando direttamente quelle sfocate non dico di cancellarle perché sono contrario a un eccessivo potere decisionale lasciato nelle mani dell'intelligenza artificiale ma quantomeno potrebbe segnalare le fotografie che non sono perfettamente a fuoco già questo sarebbe un aiuto per tutti quelli che si trovano a scattare per esempio a raffica negli eventi sportivi questa cosa già la fanno i software di cooling come si dice in inglese i software che ci permettono di selezionare i nostri lavori ma io parlo di un'integrazione che sta ancora più alla radice cioè la fotocamera stessa dovrebbe essere in grado di riconoscere le fotografie non a fuoco ed evitare completamente di mandarle a server ftp questo potrebbe essere una bella funzionalità è un'altra cosa ma perché dobbiamo essere costretti a registrare sulla scheda di memoria quando le nostre fotocamere hanno ormai il collegamento usb c e noi potremmo tranquillamente collegare un hard disk usb c alla fotocamera e lasciare che questa registri le immagini direttamente sull'hard disk usb c questa è una domanda che non faccio a voi ma la faccio ovviamente ai brand potrebbe essere un problema tecnico potrebbe essere un non fidarsi della velocità di scrittura dell'affidabilità di scrittura degli hard disk esterni ma lasciare al fotografo la possibilità di decidere dove registrare secondo me sarebbe un ottimo vantaggio già tra l'altro abbiamo alcune macchine che lo fanno non sono nello specifico delle macchine fotografiche ma più delle cinecamera come quelle di black magic che ci permettono appunto di registrare direttamente sull'hard disk esterno e secondo me gli altri brand dovrebbero un po imparare da black magic in questo senso e lasciare al fotografo la possibilità di decidere tra la maggiore affidabilità ma il maggior costo della scheda interna e la minore affidabilità il minor costo dell'hard disk esterno un'altra cosa che potrebbe fare l'intelligenza artificiale al posto della nostra intelligenza è quella di creare dei brevi video che riassumano l'evento se ci fate caso questo è un lavoro che fanno già i servizi cloud ai quali ci affidiamo ogni giorno come per esempio google photos apple photos amazon photos questi servizi fanno già un lavoro del genere e infatti ogni tanto ci propongono dei brevi video dei brevi montaggi di fotografie che riassumono le nostre recenti vacanze ci avete sicuramente fatto caso tornate dalla vacanza e google foto amazon photos o apple photos ci propongono dei piccoli montaggi dei piccoli slide delle nostre vacanze ecco questa è una cosa che potrebbero benissimo fare anche le fotocamere e voi mi direte mai professionisti cosa se ne fanno di questa cavolata beh i professionisti potrebbero benissimo condividere questa cavolata con i clienti immagino ad esempio i professionisti che si muovono nel mio stesso campo quello dei matrimoni e spesso noi matrimonialisti facciamo degli slide show da mostrare ai clienti qualche giorno dopo addirittura il giorno dopo del matrimonio avere un aiuto della fotocamera che ci prepara già un piccolo slide con le fotografie che magari secondo l'intelligenza artificiale sono le più significative oppure seguendo i nostri suggerimenti che noi possiamo contrassegnare le foto che preferiamo ecco questo è un lavoro che potrebbe fare già la macchina lo so benissimo che la macchina sicuramente non farà un lavoro valido come il nostro ma intanto come punto di partenza può essere un grosso risparmio di tempo per noi fotografi una cosa che invece non c'entra niente con l'intelligenza artificiale ma che le nuove fotocamere dovrebbero prendere maggiormente in considerazione è il comparto audio il comparto audio delle fotocamere praticamente è fermo ai tempi della d90 cioè abbiamo questo benedetto jack di ingresso del microfono e da lì c'è un convertitore analogico digitale che sicuramente negli anni è andato migliorando molto nel reflex anche nelle mirrorless ma si ferma lì non abbiamo nulla di diverso da questo convertitore analogico digitale che prende il segnale dal microfono e ce lo registra nella schedina alcuni modelli di mirrorless hanno integrato un sistema che utilizza la slitta del flash per avere degli ingressi più professionali come quelli xlr ma io mi azzarderei a spingermi ancora più in là con l'audio che cosa mi riferisco mi riferisco per esempio ai registratori in 32 bit float non so come si pronuncia bene l'inglese se sto sbagliando correggetemi per favore 32 bit credo che si traduca fluttuanti che registrano una gamma dinamica molto maggiore di quella dei registratori normali e quindi ci risparmiano la fatica e anche la possibilità di errore nella regolazione del volume cioè noi possiamo iniziare a registrare qualsiasi fonte senza bisogno di regolare il volume ci darebbe la possibilità di andare ad alzare in post produzione l'audio in quelle parti in cui il volume è molto basso ma senza andare ad aumentare il rumore digitale dell'apparecchio e ci permetterebbe anche di registrare delle fonti molto potenti e molto vicine senza la necessità di avere nemmeno un limiter quindi registrerebbe tutto senza andare in distorsione che comodità sarebbe questa pazzesca adesso siccome abbiamo già registratori portatili che fanno questo lavoro mi chiedo cari brand costruttori di fotocamere perché non inserire questa tecnologia all'interno delle nostre belle mirrorless se c'è qualche responsabile product manager della sony nikon o canon che sta ascoltando questo podcast magari mi può rispondere se c'è un problema tecnico se un problema di marketing se non ci avete pensato se non ci avevate pensato signori miei io sono qui per questo per farvi pensare alle cose alle quali non avevate pensato poi magari una macchinina gratis me la mandate anche per provarla così vi dico se va bene oppure no per riassumere cari puristi della professionalità delle macchine fotografiche cari puristi che vogliono che le fotocamere facciano soltanto le fotocamere rassegnatevi il mondo delle fotocamere sta andando in questa direzione nell'integrazione delle funzionalità delle fotocamere con quelle del cellulare questa integrazione abbiamo visto che è sempre più profonda e sarà sempre più profonda arriveremo secondo me molto presto ad avere delle fotocamere che hanno già un piano dati al proprio interno una sim dati come ce l'hanno i nostri cellulari e potranno trasmettere direttamente le immagini man mano che le scattiamo ai nostri servizi cloud o ai nostri server ftp oltre a questo vedremo sempre di più l'aiuto dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre fotocamere che ci aiuterà in vari compiti quelli più noiosi come capire quali sono le foto sfocate scartarle o ad esempio creare degli slide show molto veloci da poter condividere immediatamente subito dopo l'evento addirittura durante l'evento stesso avremo anche un ingresso della computational photography personalmente spero che la computational photography arrivi perché in certi casi può essere molto utile ma che sia sempre qualcosa che noi possiamo escludere dall'equazione questo mi auguro sono sicuro che vedremo presto ulteriori sviluppi di questa tecnologia nikon è stata la prima a fare un'applicazione per professionisti per collegare il cellulare alla fotocamera ma tutti gli altri seguiranno certamente a ruota e mi sorprendo che i primi non siano stati i brand legati al micro 4 terzi che invece è stato sempre avanti nelle innovazioni tecnologiche vedremo cosa ci riserverà babbo natale ciao 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 ciao